Ciao sono Davide e oggi assieme prepareremo la crema al cioccolato. Ecco gli ingredienti che abbiamo bisogno per creare la nostra crema al cioccolato. 250 g di latte intero, 10 g di cacao amaro, 60 g di tuorlo d'uovo, 50 g di zucchero semolato, 15 g di amido di mais, 60 g di panna animale fresca e 50 g di cioccolato fondente. All'interno di un pentolino uniamo il latte e la panna fresca animale. Io ho fatto questa precisazione prima perché in realtà la panna è solo panna animale, quella che impropriamente viene chiamata panna vegetale non è panna, è un qualcosa di vegetale, un composto vegetale che appunto impropriamente viene chiamato panna vegetale, però proprio per evitare l'incompressione è proprio specificato panna animale in modo tale che si capisca bene. Quindi inseriamo la nostra panna fresca e il cacao in polvere. mescoliamo il tutto e portiamo a bollore il nostro composto. A parte creiamo una pastella con lo zucchero semolato, il tuorlo, mescoliamo bene i due composti e poi aggiungiamo l'amido di mais. ecco qui l'amido e mescoliamo il tutto. Una volta che il latte sarà pronto, quindi sarà arrivato a bollore, lo aggiungeremo a questo composto. Il latte è pronto e adesso lo aggiungiamo al nostro composto. Mescoliamo bene il tutto e poi riportiamo tutto a cottura e la nostra crema dovrà arrivare alla temperatura di circa 84 gradi, 84, 85, perché abbiamo solo amido di mais e di conseguenza ha un maggior punto di gelificazione e di conseguenza, quindi di addensamento, di cottura e di conseguenza dovremo aumentare un pochino rispetto a una crema pasticcera normale. Inseriamo e andiamo a cottura. la crema si sta addensando. Una volta che sarà densa, pronta, andremo ad aggiungere il cioccolato fondente tritato. Inseriamo un pochino, sempre al centro e verso l'esterno, centro e verso l'esterno, in modo tale che prendiamo sempre tutta la superficie della pente. Centro e l'esterno. Ci siamo quasi. Centro e l'esterno. eccola qui. La nostra crema è pronta. Ci siamo. La nostra crema è pronta. La versiamo all'interno della nostra bull. Prediligo sempre una bull in vetro o in ceramica perché la plastica va bene ma poi trasferisce un po' gli odori così quindi meglio sempre il vetro o la ceramica. E adesso a questo punto con la crema ancora bella calda vado ad inserire il cioccolato che ovviamente piano piano andrà a sciogliersi. Trichiamolo bello fine in modo tale che agevoliamo questo processo e sostanzialmente facciamo anche un po' prima. perfetto. La nostra crema al cioccolato è pronta. Posizioniamo una pellicola a contatto in modo tale che evitiamo la formazione della pellicina sulla nostra crema. e possiamo abbattere la nostra crema. Cosa significa? Posizioneremo la crema all'interno di una ciotola con il ghiaccio sotto in modo tale da abbattere velocemente la temperatura della crema per evitare la formazione batterica. Questo in pratica noi posizioniamo la crema, mescoliamo in maniera vigorosa e ovviamente mescolando la crema si raffredda e quindi abbattiamo la carica. Ovviamente se a casa hai l'abbattitore perfetto. Se non ce l'hai procediamo con questo sistema. Poi la crema la possiamo conservare in frigorifero per circa 3-4 giorni. Cosa c'è di più buono e goloso di una crema al cioccolato? E adesso divertiti a prepararla!